Vedi che non sapete dove c'è un opacolo? C'è un'altra scartiera, l'abbiamo presi. C'è un'altra scartiera. Se tratta d'un'altra scartiera. Il fira a cantata il paiole. Cosa è? e aici dice Survei Permanent Survei Mark aici e frumos sa vede sa ia mistare A plouat toata dimineata A plouat toata dimineata Si uite De asta nu-i lume nici pe la mese, barbecoie si asa mai departe Si nu-i prea multa lumea Uite aici sa vedem harta Vezi aici suntem noi Iua here Uite aici e The Gaba Uite aici The Gaba La cartier la mine, Story Bridge Uite aici Fisherman Island Asta e la capul Brisbane River St. Helen Island Acum a fost Pyrnaip Nu asta acum e pentru carantina Morton Island Uite Strati Si uite si Maclay Island Ha 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 Uite aici e Maclay Island Mauncota Deci Maclay Island Mauncota Ar veni cam la aproape 30 de km Ceva aproape acum De aici de unde suntem acum Si aici de o muntă Si cu statiile de televiziune Aici de aici de o muntă Aaaa Mișto Mișto Uite acum 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 aveți idee Ce cum si in ce fel Ce cum si in ce fel Ce cum si in ce fel License Acum Doamnă La Nisip La Construcții Care Carierea de nisip Mișto Uite 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 Sì. Vedi Niro, vedi Niro, vedi Niro. Niste dei bei. La mia un'antena di televisione una lì a qui è già lì 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 la mia la mia